Apriamo, buona giornata, apriamo un altro mese, siamo al primo di settembre, martedì e allora iniziamo un mese che ci porterà, speriamolo naturalmente, ad iniziare i vari campionati regolarmente e a cercare una certa tranquillità, una certa continuità. Venetoglobe.com la continuità ve la dà con il suo sito sportivo Streaming Sport, potete ascoltarci anche attraverso l'audio di VG Radio, attraverso il digitale terrestre di Caffè TV 24, l'emittente del Nord Italia sul canale 95 per Veneto e Friuli, Venezia, Giulia. Andiamo subito a vedere, ricordo anche per chi è invece in vena di tecnologie, beh scaricate la vostra app di www.venetoglobe.com sul vostro telefonino, sul vostro iPhone, riceverete tutto e potrete rivedere tutto in modalità on demand. Allora adesso ci siamo, questo signore si chiama Vidal, la notizia del giorno è proprio la sua, cioè quella che ha detto di sì, ha detto di sì a Conte e all'Inter per la prossima stagione, per lui è pronto un bel biennale. L'Inter adesso punta su Cantè per un nuovo giocatore. Al Milan invece Ibra e Tonali, eccolo qua, c'è l'accordo, c'è l'ok. Ibra ha firmato per Tonali, accordo raggiunto e ora si punta su Brahim Diaz. Per Tonali non c'è ancora l'ufficialità diciamo, ma non c'è nemmeno la presenza a Milanello perché il giocatore si trova in raduno con la nazionale. In Europa League il Milan affronterà tra l'altro lo Shamrock, una squadra irlandese al primo turno. Sempre per quanto riguarda il Milan, domani fa il primo test, scende in campo con il Novara, poi ci sarà Monza e sarà una vita con in tribuna Gagliani e Berlusconi. Monza vi dicevo e poi abbiamo il Vicenza. Andiamo all'Atalanta, alla Dea ci sono tre positivi di cui uno è Ziborra, privacy invece per gli altri due che non sono stati comunicati e detti dalla società. Oggi intanto alla Dea arriva il nuovo acquisto Miranciuk che è un giocatore che dovrebbe sostituire appunto in tutto Ilicic. Andiamo a vedere le notizie dal Consiglio federale perché ieri il Consiglio federale ha confermato la partenza della Serie A per il 19 settembre e fin qui nulla di nuovo, lo si sapeva. Poi ha detto sì al posticipo della prima partita di Inter e della stessa Atalanta, ha detto no al rinvio per Roma e Cagliari per gli stadi aperti, obiettivo invece il mese di ottobre. Oggi, eccolo qui, il Grand Hotel di Rimini apre al calciomercato e quindi si torna un po' agli anni di fasto di Milano quando il calciomercato appunto era inquadrato all'Hotel Gallia di Milano e si viveva quell'area. Adesso si respirerà l'area del Grand Hotel di Rimini. In Serie B Coppa Italia con un turno preliminare per quanto riguarda Brescia-Vicenza e Perugia-Ponte d'Era. Gare d'andata domani 2 settembre mentre il Pordenone, lo abbiamo già detto ieri, giocherà il prossimo anno a Lignano. Ma ci sono i ritiri da seguire perché molti dei nostri telespettatori che sono vicini alle squadre venete e friulane avranno la possibilità di salire ai monti per seguire da vicino le proprie squadre. Per esempio il Pordenone, vi dicevo, sarà in ritiro dal 2 al 13 settembre a Tarvisio, il Cittadella invece dal 2 al 18 a Lavarone, il Chievo in ritiro fino al 5 a Pieve di Cadore, Venezia in ritiro fino al 5 a San Vito di Cadore, poi il Vicenza invece in ritiro a Caldogno. Parliamo di automobilismo perché avevo visto se non erro eccolo qui la Ferrari e purtroppo non ci sono buone nuove per la Ferrari. Domenica intanto diamo le buone nuove. Si corre in Italia per il Gran Premio della Formula 1, è il primo dei tre Gran Premi italiani a Monza, si corre il 91esimo Gran Premio d'Italia. Tra sette giorni poi toccherà al Mugello, quindi il primo novembre si correrà ad Imola. Vi dicevo della Ferrari, è tempo di bilanci soprattutto per Vettel che chiude per l'appunto con la rossa di Maranello. Dalle quattro ruote alle due ruote a pedali al Tour de France, terza tappa e vittoria di Ewan, su Bennett e sul nostro Nizzolo che sta attraversando un momento di forma fantastica. ieri ha collezionato un terzo posto. Oggi c'è la salita per scoprire ulteriormente le carte. Per il ciclismo, sempre oggi, si festeggiano gli 80 anni di Bitossi, un ciclista che è indimenticato. Mentre Imola potrebbe ospitare il Mondiale e dentro domani avverrà la scelta dell'UCI che potrebbe ascoltare comunque il parere medico, i protocolli medici e vedere se il vantaggio è il circuito per quanto riguarda Imola. Quindi potrebbe essere una scelta fatta su strada, parzialmente, e poi circuito oppure soltanto circuito di Imola. Il basket manda in campo oggi le squadre che si affronteranno in quattro gare. Cantù-Milano, Brescia-Varese, Fortitudo-Bologna-Cremona, poi Virtus-Bologna-Reggio-Emilia. Domani torna in campo anche la TVB di Menetti che giocherà in casa al Palaverde contro Trieste. La pallavolo femminile ha lasciato gli ottavi di finale ed è approdata ai quarti. Si affronteranno Busto-Arsizio-Chieri, Novara-Firenze-Bisonte e domani alle 20.30 Scandicci-Monza. Da questa partita scaturirà il nome della squadra che poi affronterà il Limoco in semifinale. Finale, lo ricordo, in Piazza dei Signori a Vicenza nella giornata del 6 settembre. E allora parliamo di cronaca regionale, provinciale, locale, sempre riferita allo sport. Cominciamo dai Benetton, i Leoni di Crowley hanno giocato a Parma la gara di chiusura del loro Pro 14. È finita bene con una vittoria contro la franchigia parmense. E allora andiamo a sentire che partita è stata ulteriormente. Ne abbiamo parlato ieri con un altro giocatore dei Leoni e oggi sentiamo un altro Leone, ovvero Marco Barbini. Sì, è il risultato che abbiamo cercato, abbiamo imparato la lezione, abbiamo lavorato sugli errori. Alla fine, dopo un grande stop, comunque tornare in campo non è semplice, però la voglia c'è sempre stata, ma abbiamo commesso troppi errori, soprattutto sulla disciplina. Abbiamo avuto una settimana lunga su cui lavorare e ci ha servito. Abbiamo portato a casa il risultato, anche se la prestazione non è stata una delle più belle. La mischia è stata la piattaforma a cui abbiamo creato la maggior parte delle nostre azioni, che dopo sono finite con la meta e ci ha messo sempre nel piede avanzante o comunque ci ha dato il respiro che in certe situazioni avevamo bisogno, di cui avevamo bisogno. Quindi sicuramente abbiamo lavorato la mischia, ma anche e soprattutto sulla disciplina, sulla fisicità che era un po' mancata nella settimana scorsa. Comunque c'è molto da lavorare perché non siamo arrivati, ma siamo solo all'inizio, quindi bene così. Ovviamente ho fatto delle cose belle, ma anche tanti errori, però ci sta. Comunque Monti ha fatto delle cose incredibili che abbiamo visto anche nei replay, nei maxi schermi, però la prima linea ha fatto un lavoro incredibile perché ovviamente il lavoro parte da lì e finisce con la bella azione, ma tutti quanti avevamo chiesto prima di entrare in campo un atteggiamento positivo e con energia ed è quello che si è visto in campo e quindi non possiamo che essere contenti del risultato. Adesso abbiamo una settimana, un paio di giorni liberi per dopo analizzare quello che non è andato per poi chissà vedere se ottobre quando si rinizia partire col piede giusto. Comunque è complicato perché c'è stata anche una parte mentale che bisogna mettere all'interno di tutto questo, ma anche la parte fisica comunque sono stati i mesi in cui sei stato a casa da solo lavorare, poi è tornata la squadra e poi bisogna mettere in conto che sono partite che di solito è in un periodo in cui vengono fatte le amichevoli, che c'è molto caldo ed è difficile comunque giocare, infatti vengono giocate le sere, quindi ci sono sempre più errori durante questo periodo di partite, soprattutto con questo caldo che si aggira intorno ai 30-35 gradi. Quindi si può fare sempre meglio, però è un buon punto di partenza. Un piacere parlare e sentire Barbini che disquisisce molto bene e ha spiegato la partita in tutto e per tutto. Ora per Benetton, ne accennava già anche lo stesso Barbini, riposo fino al 9 settembre, poi alcuni giorni dopo si aggregheranno gli azzurri che saranno di ritorno dal collegiale di Parma, torneranno in campo loro gli azzurri il 14. Per il femminile, intanto, ci sono quattro trebigiane convocate per la nazionale e sono tutte in forza all'arredissima Villorba. E chi sono? Beh, l'Eterna Barattin, lei c'è sempre, poi Cavina, Furlan e Muzzo per quanto riguarda appunto, eccola qua la Barattin che arriva per la nazionale italiana. La pallavolo con la HRK, ieri sera c'è stata, dopo l'allenamento c'è stata la presentazione, ne parleremo nei prossimi giorni. Poi la TVB De Longhi invece che è ritornata dal tagliercio di Mestre con la convinzione di aver fatto un'ottima prova contro Venezia, nonostante la sconfitta, il derby insomma è sfumato nell'ultimo quarto per un soffio, visto la Reier vincere 81 a 68. Domani al Palaverde arriva Trieste che ieri ha battuto Trento per 86 ad 83. La Serie B per la Rucker, oggi la stampa dice che sia per TVB che Rucker sarà un campionato con partenza in salita, vedremo se sarà effettivamente così. È un girone parecchio difficile e duro ulteriore per la Rucker Sambe che ha comunque allestito un buon quintetto, un buon roster in questo caso. Si continuano gli allenamenti a Ponzano per il basket femminile, campionato che partirà il 3 e il 4 ottobre. Ci si sta allenando all'esterno e all'interno del Palacicogna e della Ghirada con già alcune partitelle tra le ragazze per quanto riguarda il pallone da giocare e da provare. Tra poco arriveranno anche quelle atlete che hanno la doppia possibilità di giocare con la Reier e con Ponzano. Adesso il calcio. Il calcio che è pronto a prendere il via il 13 di settembre per quanto riguarda non più Coppa Italia per i campionati di promozione prima e seconda ma proprio con il via del campionato vero e proprio. Mentre Eccellenza e Serie D partiranno il 27 di settembre. Siamo ritornati a parlare di Eccellenza con l'Union Pro di Mister Gionco che siamo andati a trovare a Preganzioli. Sentiamo uno stralcio dell'intervista, poi vi ricordo che l'intervista completa con lui e anche un giocatore andrà in onda sempre su Restart. 26 settembre 2020 il nostro programma condotto dal sottoscritto da Flavio Cipriani per scoprire insieme a voi le squadre della nostra, non solo marca trevigiana ma della nostra regione. Gionco. Mister, venire scarico oggi perché avete giocato, avete fatto questa amichevole. Meno male. Sì, sì, finalmente siamo ritornati un po' a giocare cercando di rispettare quelle che sono un po' le regole però la voglia era tanta di ritornare a calcare il terreno di gioco e bene, ieri abbiamo fatto questa cascambata con la Manzanese è la prima partita ufficiale che facciamo noi loro venivano già da 5 il risultato è stato di 5 a 1 però io sono contento di come si sono mossi i ragazzi consideriamo che abbiamo preso due gol dopo il novantesimo quindi sono felice per come si sono mossi considerando che anche il primo tempo abbiamo schierato il più vecchio che era Dalio, 94 il resto erano tutti 2000, 2001, 2002, 2003 Infatti stavamo guardando qui la formazione e dicono no, non sono questi la prima squadra poi invece qualche vecchiotto c'è C'è qualche vecchio che si è aggiunto alla Juniors praticamente ma va bene, a me non fa paura noi abbiamo un buon settore giovanile dove lavoriamo bene e qua è il giusto premio per come stanno lavorando sotto portare qua i ragazzi e cercarli di farli capire che non sono più nel settore giovanile ma che devono farci le ossa velocemente Intervista completa, lo ripeto Restart, 26 settembre 2020 scopriremo l'Union Pro che vuole smettere gli abiti di outsider e cercare di dire qualcosa in questo campionato di eccellenza glielo auguriamo perché Mr. Giunco se lo merita e un po' tutta la società Ieri sera intanto a proposito di società e di squadre presentazione al ristorante Al Barco di Pieve di Soligo dell'Eclisse Careni Pievegina con la nuova presidentessa Gabriella Campo dell'Orto titolare della ditta Eclisse e il vecchio, tra virgolette, diciamo presidente e cioè Mario Piovesana che l'ha accompagnata nell'entrata appunto in società c'erano tutti, tutti presenti sia i giocatori, lo staff tecnico, tattico, gli sponsor insomma è stata una gran bella festa coadiuvata naturalmente e così con del buon prosecco e delle ottime pietanze preparate dal barco e il ristorante appunto di Pieve di Soligo abbiamo concluso noi ci risentiamo domani sempre per quanto riguarda una nuova puntata dedicata allo sport Veneto Globe, Streaming Sport, Caffè TV 24 a tutti voi, buona giornata Grazie a tutti